Continua la raccolta firme a favore dello svincolo autostradale A18 Mascali-Giarre-Nord da parte del Comitato Cittadino nato su iniziativa dei consiglieri mascalesi di opposizione. Sabato scorso i componenti del Comitato hanno realizzato un nuovo gazebo in Piazza Arcoleo a Giarre dove hanno raccolto altre firme che assieme alle precedenti hanno raggiunto quota 1.500. Domenica prossima, 28 febbraio, un nuovo stand sarà allestito a riposto. Intanto il Comitato si riunirà in assemblea per votare gli organi rappresentativi che si interfacceranno con gli organi competenti per riottenere il finanziamento dello svincolo e con il Consorzio Autostrade Siciliane al quale il Comitato ha già chiesto un'audizione.